Siamo tornati alla riserva ragazzi Dobbiamo parlare con il capitano, eccolo qui, ci parliamo subito, Capitano Monroe Il capitano è stato cercato a trovare medici, è davvero un negozio Sì Pensavo che ci siamo arrivati con tutto questo Siamo, in particolare Col. Faber sembra che i nativi hanno scoperto alcune promesse che non avevano mai fatto E' vero che è giocato loro a scoprire la vaccina che è scoperto dalla città della città Sì? C'erremmo a scoprire la città della città della città E ora ho sento che la macchina è stata scoperta C'erremmo a fare una cosa? Per essere sincero, non lo so. Dicono che non aveva una guerra molto buona, quindi potrebbe provare un'altra cosa. C'è quello che pensi? Sto cercando di capire. E lo sapevo che lo sapevo. Lo sapevo provocare a me. Lo sapevo provocare a questi mali bambini. Significa? Significa che, inoltre il fatto che io credo che è un pezzi, lo sapevo che lo sapevo. Quindi ci stiamo cercando di fare il meglio di cose. Questo è il meglio di cose. C'erano bambini. Non. Questo è davvero. C'è questo pietro? C'è dove possiamo trovare? Posso mostrare. C'è dovuto andare ad un pediatore che arrivano ad valentine, ma è stato diventato a sudare. Voi, Capitano Munro. Significa Morgan, dovremmo agli attrazione. Oh, potremmo. Potremmo, potremmo potremmo. Andiamo, veloci. Andiamo, veloci. Andiamo. 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 Ok, ci siamo. Ok, ci siamo. per la strada di questo pietro. Il pietro dovrebbe venire in questo modo. Ok. Sei un buon uomo, signor Morgan, ma io vorrei che questo lavoro sia un buon uomo. Praticamente, sono un buon uomo. Secondo, buon uomo è un tipo di uomo preferito. Certo. In questo caso, vediamo che siamo grandi amici. Posso te spiegare una domanda? D'accordo. Perché non ti chiedi a tutti i persone qui in Washington che è un tipo di uomo che il col. E salvare tutti i nostri. Molto di problemi. Infatti, il governo non funziona proprio così. Se ti chiedi. Ecco. Credo che questo è il pietro. Ok. Fuori qui. Mi ricordo solo di mantenere l'acquietto, capisco? Non ti preoccuparti, sono più pulito come veniva. Allora, tutto che faccio è pulito. Allora, buona luce. Non ci metterò nel riservazione. Non provi a prendersi uomo, signor Morgan. No, non lo so. Non lo so. Bisogna recuperare le minicene del caro rifornimenti. Come facciamo? Allora, tutti non vieni. Spicciati, tuttino. Perché sei lento, come una lumbacca. Dobbiamo fare una cosa rapida e silenziosa. Non ci devono beccare. Perché altrimenti sapranno chi è stato. Posso? No, devo per forza minacciarlo. Non posso salire sopra il carro di nascosto. No. 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 Aspettate. Ok. Fatto. Non è andata proprio come volevo, ma va bene, dai. Eh, l'ho fatta troppo complicata, ragazzi. Potevo spararli direttamente e via. Solo che volevo fare una cosa purita senza che se ne accorgessero. Invece niente. Vabbè, pazienza. E siamo arrivati, siamo arrivati. Capitano Munro. Ho la medicina. Oh, meraviglioso. È una buona notizia, signor Morgan. Non so, non so. È, uh, non è andata molto male. Ho potuto prendere la tua scuola per questo. Credo che voi sceglie per questo. ecco Ok. Almeno adesso la gente di qui starà un po' meglio con le medicine, però non abbiamo ancora risolto il problema in maniera definitiva. Allora, in questo momento, ma questo è nuova questa missione. Ma a quanto pare sì. Torniamo al campo, dai ragazzi, torniamo un attimo al campo e vediamo di pari di Josh. Non me la ricordo. Torniamo al campo, dai. Sarà una lunga cavalcata, però... Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Vediamo un po' di parlare con... Che cazzo... Sto sfasciando tutto. Salve. Dimmi tutto. L'arte della conversazione. Ah. Forza. Eh, cosa vuoi dire? Eh, se io fossi tu, sarei riuscita anche. Questo è tutto quasi finito. Ma... Spero tornare. Non, non, non. Non puoi pensare mai più. Scippi fuori. Scippi a te, Arthur. Sei un amico con il mio. No, non puoi essere sentimentali. Sì, il posto è quieto. Scippi fuori. Scippi a te. Grazie. Grazie, Arthur. Ho trovato un amico cercando per te. M. Morgan. Sì, come sei? Un po' meglio. Spero così. Come posso aiutarti? Scusate di imponere su te ancora, ma credo che ho fatto progressi per vendere la pazienza. Hai? Credo così. Col. Favors ha accettato a una meeting, per discutere e magari risolvere i miei risultati. Ora, mi ha piaciuto più volte di ricordare, ma magari questa volta... deve chiedere la pazienza. Cosa potrebbe poter chiedere la pazienza? Abbiamo parole per il suo tipo, ma sono colloquiali. Ah, magari potrei fare una ultima domanda. Ma i miei ragazzi non potrebbero portare la pazienza. Cosa vuoi? Cosa vuoi mantenere la pazienza? Sì, ci sarà un po' molto dolore e cerimone. Ma sento che con alcuni miei membri presenti, i miei risultati di scuola o più peggio, i miei risultati di scuola o più peggio, potrebbero essere riducati. Cosa, Arthur? Non è il mio negozio, ragazzi. Non, lo so. Ma è il mio. Faccio per me. Cosa vuoi? Charles... Ho salvato la tua vita. Faccio per me. Certo. Vieni. Ti vedi questo uomo? Tu dovresti averlo fare le vostre negozioni. Deve andare. Arthur non sa mai dire di no, ragazzi. Eh... Non so se sia un pregio o un difetto, ma io lo apprezzo. Arthur è un personaggio fantastico e lo amo alla follia per come è stato caratterizzato, eccetera. Come è stato, diciamo, sviluppato il personaggio. Lo adoro tantissimo, ragazzi. Seguiamo più già che cade. Be', ormai ci siamo dentro. Non potevamo comunque dire di noi in ogni caso, dai. Certo. 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 I'll fetch you some water. Wah, I'll... I'll be fine. Thank you. – Nem. Massimo. Triesenga delighted. Il corretto di Monroe, o per l'attempo, va a fare un'immagrazione di lui. Monroe? Si sembra abbastanza piacevole per un West Pointer, ma come? Voi sapere come favore, perché pensi che è vero, perché pensi che Monroe è un patsy, o un spi, che è convenzionato che ha qualcosa di a fare con queste vaccini che sono stati scopoli. A merda! Perciò Monroe, mi piace di loro. Lo so, come stile, mi piaceva, è un po' di più. Senti meglio? Si, vieni, andiamo. Le land che ci occupi attraverso, apprendono al Presidente dei Stati Uniti. Perché è così confuso, signore? Perché? Buongiorno, colonel Favors. Beh, è stato davvero non produttivo. Sono scoperto che il governo federale è stato chiaro, colonel, che ha chiesto pazzo, e pazzo per tutti, e che il trattamento non è stato scoperto da qualcuno. Oh, è così, signor? E ha chiesto impudenza, signor, da un giunior officer in pubblico? Era il suo plan anche, signor? Tu mi insulti. Tu mi insulti il reggiment. Arresti questo uomo! Arresti me? Arresti in subordinazione, disobbeando un ordine, trezionale. Sei freddo? Tu avessi queste vaccini scoperte, ti distrutti la negoziazione. Oh, 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 oh. Perchè, questo è tutto che si è fuori. Capitano Monroe, andiamo fuori. Se io fosse tu, mi guardi la mia mano a scoperta, amigo. Non voglio matare questo uomo, ma ciò. Che pezzi di merda, eh, ormai ragazzi è la... Cioè, ormai è fatta, dai. Cioè, la guerra contro queste qui è inevitabile. Oh, il cappello. Eh, scusa. Eh, scusa. Cazzo! I'm on the left! Head for the trees! We're pen dead! Go! Find some cover and protect one wrong! Come on! Come on! Captain, can you shoot? I can't do it! They're trying to kill you! I swore it on! All over now! That one was close! I can't do it! Find us all! They're late for the battle! V wszystkim! Oh, I can't do it! Just a second! Oh! Move! Move meant to be a truce! Come on, we're a damn message! Oh, ok. It's now or never. Let's go! Captain Monroe, you're with me! Ma ragazzi, ma... Allucinante, sono cattivissimi, oh! Sali, sali, capitano! Ma il pioggio che cade è che fin'ha fatto. Ancora! Cosa facciamo adesso? Voi fuori da qui. Voi, vieni a la stazione. Non c'è che ciò che è successo. Mi sono stato un'armi, la mia vita. Ho ho sentito parlare. Voi avessi a te prendere per trezondi. Non puoi morire per quei tanti. E cosa con il Presidente? Facciamo ciò che possiamo. Capitano mi raccomando Stai attento eh Cappitano mi raccomando Lascia stare, lascia stare. Mr. Morgan! Oh, salve! Sei ok? Eh? Un po' meglio. Cosa ti faccio qui? Sì, sono sul passaggio a Mexico. Sì, finalmente mi mandano una missione. Il fratello Dawkins è molto glielo. Cosa stai? Un po''ll... Que'è vero? Oh... I'm mati, frate. Ok... Eh, ho fatto T.B. Ho fatto. Hoato il mani... A la morte, per un po' di euro. Ho vivuto una vita brutta, sister. Ci siamo tutti vivuti una vita brutta, signor Morgan. Ci siamo tutti pezzi. Ma io lo so. Tu non lo so. Lo so, ma questo è il problema. Tu non lo so. Cosa vuoi? Non lo so, ma quando ci siamo incontri, tu stai sempre aiutando la gente, e si sorrisci. Ho un figlio. Si è morto. Ho una ragazza che mi amava. Lo so. Mi mamma è morto quando ero un figlio. E mio papà... Ho guardato a lui morto. E non ci sono mai pronto. Mi amico morto un tempo fa. La vita è piena di dolore. Ma anche c'è amore e bellezza. Cosa faccio adesso? Sare un'importanza che per la prima volta, vedete la tua vita chiaramente. PESA Sicuramente. Perchè tu possi aiutare a qualcuno. Nel audience te rendi davvero felici. Ma... Io ancora non credo in niente. Molto nemmeno nemmeno. Ma poi c'è qualcuno come tu. E tutto ciò che fa sensazione. Tu è troppo smart per me, amore. Credo che... ...dia spettacolo. Non c'è nulla cosa per farlo, signor Morgan. Prendete una scuola che il amore e fare un amore. All aboard! Io potrei provare. Lo vedrai. Ciao, ciao, signor Morgan. Ciao! Ciao! Addio! Ciao, sorella. È stato bello. Beh, che dire ragazzi, è veramente triste. È veramente triste sapere che... la nostra fine è ormai vicina. Non possiamo fare nulla per impedirla. Ma la cosa più triste è... se devo essere sincero è che... Arthur... continua a mortificarsi. Per quello che ha fatto. in realtà... in realtà... non mi ricordavo... non ricordavo affatto... che la tuberculosis... se la fosse presa... pestando... eh... quel tizio... a sangue... un debitore... e... adesso... come... Arthur l'ha accennato... parlandone con la sorella... con la suora... mi è tornato in mente... quando Strauss... aveva mandato per la prima volta... o... una delle prime volte... insomma... Arthur... a riscuotere i debiti... a quei poveracci... e... ne aveva pestato una sangue... che stava già male... e infatti... gli era arrivato addosso... della saliva... del suo sangue... eccetera... si era preso così... si era presa così... ragazzi... la tuberculosis... diciamo che è stato... non lo so... io... la leggo... la interpreto... in questo modo... Arthur... ha commesso... un atto... diciamo... impuro... malvagio... eh... il destino... gliel'ha fatta pagare... la sorte... gliel'ha fatta pagare... se non avesse dato retta a Strauss... che ora ce ne siamo... delle... definitivamente liberati... e se... avesse fatto fin dall'inizio... la cosa giusta... questo non sarebbe successo... ma sicuramente... Arthur sarebbe morto... diversamente... visto che nel primo Red Dead... non viene minimamente menzionato... quindi... per la Rockstar... era comunque in programma... che... Arthur morisse in ogni caso... e questo è... veramente triste... è veramente triste... comunque... adesso... io direi di andare a parlare con... Maika... eh... si... c'è sbloccato la seconda missione... del sindaco... però... la rimando... e vado dritto da Maika adesso... perché... c'è da un bel po' questa missione con Maika... quindi... vado dritto da lui ragazzi... grazie... passate for... ho istari e Singapore... anche se... Capisce... ah... değil... e權 Paco... devi chiarireanh... sepprano... Grazie.